Capita che a volte incontri una persona e il caos intorno a te per qualche minuto sparisce all'improvviso, in maniera inaspettata, prima ancora che una sola parola venga pronunciata. Capita anche che se sei dell'umore giusto e sei pronto a spaccare il mondo, il sorriso di certo in questa situazione non ti manca. Ma a volte le cose non vanno sempre come noi desideriamo. Anzi, questa volta sembra che ci cada il mondo addosso. Ma sai che la cosa più importante è non nullare, crederci sempre e continuare a sognare. E quando credi che ormai non c'è più speranza, ecco che all'improvviso, in maniera inaspettata, un piccolo gesto fa nascere la storia d'amore più bella. Capita che a volte dà un semplice mi piace sui social. Si arrivi su un monte bendati, con capri che regna il tramonto. E un anello al dito sigla il nostro per sempre insieme. Monica e Alessandro, ora e per sempre, ricomincio da noi. Alessandro, ora e per sempre, ricomincio da noi. Monica, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Alessandro, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Alessandro, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.